Salve a tutti, oggi giocheremo a Volta, Volta a Kaido per vedere chi vincerà Vedere Oh ma quello è che orri poi eh Sagesco, sono stecchino eh Sono più veloce io di te Quindi non è che Capone Oh No Bene Bene il lazzarino Non ci credo Non ci credo Sto facendo tutto io qua Nooo Oddio Dai che schifo Oh Oh a vera, apure adesso oh, che sei si, finito, finito, proprio oh, 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 blue oh se gli ho fatto corno ho fatto... oh vabbè, che è rossa eh, fissi, ah no apri oh 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 aia oh che aia che aia 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 che aia oh che no 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 aia aia dai dai, ci sta, è rimontato e più forte è un corno più forte è un corno più forte è un corno no è buono ma quello là è arrivato ultimo quello là è rosso grave ma con i compagni come riguarda aia cofio aia 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 Ok siamo insieme Marco Pronto Marco? Ok Tiro Bello Tira Non si credo Passa Madonna Ma 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 Buongiorno Ma se fossimo stati il pareggio come finiva Noi Eh Marco Qua tutti possono vincere e tutti possono perdere Dimmi che è quella Sì E' un indovina che sarà col blu Io Nice Forse è forte Forse è forte Eh sì ma è primo perché Tu e perché ti ho perso Experimente D blended il lino Mi ha studiato Ancho 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 Basti Ancho Ancho Ma come ti colpito? Tanto io ho fatto i uniti, sono i uniti Ma come ti colpito? Guarda, guarda 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 Madonna Oh Sto volendo Bravo compà Marco L'ultima No Eh lo so però No Nooo 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 madonna regalate sei primo? sei 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 se sei sei adi сравse ok ну dai 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 ja hear cá momma è è qui è 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 nooo di 500 punti siamo 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 sono siamo sono 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 zero no